... Senatore Desi, come è andata la registrazione? La saprima molto in Senato, ci sono state un po' di polemiche. Lei aveva firmato una dichiarazione di rinuncia. Com'è che è stato reintegrato? Quindi il documento che aveva firmato era falso, senatore? Senatore, ma rinuncerà la casa in affitto? La casa popolare per cui pagava 7 euro, anche il PD chiede che lei rinuncia a questa. Pagano i contribuenti, il senatore pensa di lasciarla alla casa. È un buon modo per iniziare la legislatura.